No, ma praticamente mario 64 e cuphead Dobbiamo andare a salvare pamela anderson poi Abbiamo chiamassi la sedia a due unghie ma è disgustosa questa cosa che hai detto e toad No bro l'hai letto male Io gioco sempre su mario kart quando ho passato da fa allora entriamo qua che sembra una delle Unica e porte a norma che bel quadro Non posso fare battute niente Allora si sto leggendo la lord dobbiamo recuperare le stelle del potere che browser Dobbiamo parlare con il mister bond per bian allora dobbiamo prendere le bombe portarle sopra quanto ci mettono a scoppiare le bombe Ma secondo te ci sono gli schibi di toilet No, non ci sono gli schibi di toilet non li avevano ancora inventati Ho lanciato qualcosa ma che è No, le ha le palle ma cosa incade questa roba io mica me la ricordo e credo ci sia qualcuno che ci stia lanciando queste gocce Allora ci serve una bomba dammi qua Signore buonasera cerco su wikiau come fare una bomba carta no 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 ragazzi Cretino Oh non garzo stare a buttarti addosso. Guarda che questa io sono davanti a vittoria emanuele secondo sbrigati non mi prende neanche prende questo che porta sopraumana bro lo devo solo lanciare allora lo prendo per il culo hai capito la battuta hai capito la battuta alla passemelo schiaccia è niente troppo vicino distrailo l'ho preso l'ho preso ho preso vai bomba è morto abbiamo la stella io ho preso una stella ragazzi pasta e fagioli mi chiamo mario bros dell'abbonamento regala aia mi hai fatto male pezzo di stavo ringraziando ma come si è infame aia sbaglio contro il muro vieni qua pezzo di infame di proviamo andare di qua perché abbiamo una stella quindi possiamo aprire guarda l'abbiamo me la fa aprire è perché la sto menando dentro postati a perché io una stella super luigi no ce l'abbiamo in tutti e due la cosa è questo fico è il castello di dragon ball spedron 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 non funziona che se dici spedron invece di funziona sto andando spedron 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 bro aia stupido cretino scemo efficiente credino spedron spedron no fermo fermo aspetta mi aspetta mi aspettami che c'è la pianta io sono allergico all'insalata allora qua devi scendere tu a sinistra ornello noni no bro scendito a sinistra di qua che hai detto scendi di qua alla sua sinistra e vai giù dove ci sono le monete va bene un attimo aspetta come faccio a posto volevo solo vederti morire in realtà si passa di qua pezzo di merda ma sto signorotto che vuole che hai fatto incazzare figlio di troia bastardo spero che muori nome ma ha detto queste brutte parole allora lui è lo zio vera what ha una faccia mi hai fatto male l'hai ucciso è omicidio no 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 sta bene è scoppiato voglio la stella voglio la stella voglio la stella voglio la stella allora io entrerei qua in questa porta dove non si può entrare vieni entra qua che c'è scritto 1 buonasera è qua aia un sacco di quadri di pitch si possono entrare sono entrato a destra bro no è partita la canzone dello speed run devo andare bro mi dispiace vai sento la canzone non saltare non saltare non saltare no però non so come si frena io sto andando di pancia io non posso uscire perché il mio personaggio è fermo nella stessa posizione del santo dio no hai preso l'hiv o dio una stella va bene rifacciamolo dobbiamo farlo entro 20 secondi mamma mia fast and furious madonna raga bellissimo mi sento su real power 20 secondi 20 e 0 8 una stella mia tu hai fatto tutto per far per prendere la stella a posto mio non ho capito si infame andiamo a fare quello dell'acqua bro todd mani in alto mani in alto no bro io ho la talassofobia tu lo sai e qua è peggio perché effettivamente io so che c'è un mostro allucinante qua sotto no non è vero non c'è nessun mostro allucinante guarda stanno già i clamps ma che cos'è quella cosa c'è una murena ma che carino ma una faccia tremenda ah fa male non c'è andare non c'è andare basta agli alle zampe guardate comunque questi cantieri non a norma sono tremendi eh lo so bro quando vieni in sicilia ti devi abituare io che vado a scuola così era c'è un ordine con cui vanno aperti bro va bene ok non è destra non è giù sotto prendina e aprila allora uno ragiona come se fossimo gli sviluppatori adesso per forza di cosa è questa ragazzi dei pro dei pro ragione come lo sviluppatore del gioco no è incredibile che siamo proprio oramai diventati nel gergo dei gaming dei pro gamer o la murene viva che paura sembra di giocare sapnautica maledizione un'altra volta hanno un ordine hanno un ordine perché ci sono questi comandi terribili comunque 1 io apro questo non è questo apri di maledizione che i due sviluppatori di sviluppatori il terzo sarà questo niente non ho però è che sono sotto pressione sotto acqua letteralmente apri quello sono morto vieni 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 ti ho salvato che sta succedendo che sta succedendo che cosa abbiamo combinato però mi sa che abbiamo tirato lo sciacquone l'ho fatta madonna madonna il re del mario o solo di pomare so l'hai preso fino alla stella però der kebab incredibile buono che abbiamo fatto il kebab e qua dove si va pitch oh mio dio oh io sono caduto nella trappola di oh di bowser schibiti ma questi sono oh mio dio l'enel hai detto davvero oh mio dio l'enel sono adulto quindi odio qualsiasi provider di servizi che mi dia una bolletta daddy bowser smettila smettila lo stai dicendo duemila volte non lo so perché non lo capisco era un ricordo un meme di di mario che questa voce fa daddy bowser i fratelli kpp ed diventano i fratelli mario scendi nel tubo nel tubo L'ho mancato. No! Che c'è? Che hai trovato? Daddy Bowser! Oh, l'ho preso, l'ho preso! Gira, gira, ruota, fai il torpirinio! Vai, vai! Lancia! So long, Bowser! So long, Bowser! L'ha detto, l'ha detto, l'ha detto, l'ha battuta, l'ha battuta! È morto? Credo di sì, l'abbiamo ucciso subito! Let's go, baby!